All'inferno e il ritorno. La Turris risorge a un passo dal quarto K.O. consecutivo e riacciuffa in extremis il pareggio contro il Bisceglie. La squadra di mister Fabiano si schiera con il neoacquisto Ventola in avanti che impegna da subito il portiere ospite, seguito poi da una conclusione di Giannone. Ma alla prima occasione i pugliesi passano, da calcio d'angolo e alto bello a sveltare su tutti e insaccare per il vantaggio Nero Azzurro alla mezz'ora. Nella ripresa subito dentro Longo per i Corallini che si riversano in avanti. Proprio Longo chiama Russo la parata, poi ci provano Romano e Loreto ma la porta avversaria appare stregata. Alla mezz'ora il Bisceglie come nel primo tempo alla prima vera opportunità trova il rigore per fallo di mano di Dinunzio che Cittadino trasforma portando i suoi sul 2-0. Sembra ormai finita ma a 5 minuti dal termine Giannone da fuori trova la lette che scuote i Corallini. In pieno recupero lancio lungo di Franco, la palla arriva a Persano che soffra il portiere in uscita e infine in rete per il clamoroso pareggio che fa esplodere la panchina della Turris. Un punto che finalmente muove la classifica e ridà nuova linfa alla squadra dopo un periodo a varo di soddisfazioni. La trasferta di Monopoli in quello che è un altro scontro salvezza dirà se la Turris è uscita dal tunnel.